Ultima impresa bellica del non più giovane, ma valoroso, sergente IUEI, detto Ghani, che ha una dura carriera alle spalle nei Marines, Corea e Vietnam. Nel 1983 gli viene dato l'incarico di formare, da un manipolo di sfaticati, un comando di uomini veri. Nel frattempo incontra Egy, la sua ex moglie che lo aveva lasciato perché trascurata, l'amore tra loro è sempre vivo. Arriva un allarme vero, andare a combattere sull'isola di Grenada. L'impresa darà delle belle soddisfazioni a Ghani, che si riprenderà la moglie e andrà a coltivare avocado.